Il primo piano Molise Neve e temperature polari, il maltempo non concede tregua e il ghiaccio rende insidiosa la circolazione di saggi sulle statali 17 e Tregnina Critica la situazione in Alto Molise, i vigili del fuoco di Agnone portano generi di prima necessità a Castiglione Messer Marino La polizia salva due famiglie intrappolate nella tormenta, i carabinieri in soccorso di persone sole e di chi deve raggiungere gli ospedali per dialisi e cure A Boiano auto incagliata sui binari, al passaggio a livello, treni di nuovo in tilt, Bora eppure qualche fiocco sulla costa ma la sciabolata risparmia il litorale Anziana bloccata in casa ad Altiglia perché la soprintendenza non autorizza lo spartineve Poi il punto a firma di Sergio Genovese, ipocrisie vecchie e nuove Ricostruzione al palo, Toma entro marzo la soluzione, striscia la notizia a Castellino Barriere architettoniche Molise e Maglia Nera, solo il 22% delle scuole a Norma A Campobasso in città una piazza a Piersanti Mattarella Sport rinvii per i segni a Campobasso, la neve causa il posticipo al 30 Sospesi i tornei locali, calendari slittano di una settimana Il Venafro rinforza la difesa con l'arrivo dell'ex vastese, dichiara Il quotidiano del Molise, Regione, maggioranza spaccata, Donato Toma sempre più solo La Romagnolo alza la voce, non ci sto, allo sperpero dei soldi dei molisani e dico no ai fondi a sviluppo Italia Cotugno, replica i 5 stelle, piano strategico tra le competenze di sviluppo Italia Nicola Messere sosterrà l'ex ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, la segreteria del PD Ma al tempo arriva la tregua dopo 48 ore di brividi e disagi Ghiaccio e strade impraticabili, automobilisti in panne sulle arterie interne e sulla trignina Agnone, dializzati, trasportati in ospedale con i bobcat Pullman con 30 passeggiari bloccato a Pescolanciano, famiglia salvata nella tormenta Nevicata record in alto Molise, manca il pane, intervengono i vigili del fuoco Ricostruzione post-sisma, striscia, pressa il presidente e arriva a Castellino del Biferno Autonomia, Molise a rischio estinzione ma la regione tace Xaldi Invernali, oggi parte la corsa all'affare Una piazza dedicata a Campobasso a Piersanti, Mattarella E poi c'è lo sport Campobasso ufficiale Il rinvio del match con la San Giustese si recupera il 30 gennaio Isernia, Lancellotta e Nevato, la gara in programma contro il Forlì Slit a fine mese Stop a tutti i campionati del calcio regionale Basket a due, Magnolia, iniziativa per il sociale Ed ora le testate nazionali, il giornale, governo allo sbando, caos totale Di Maio contro Salvini, sia lo sbarco dei migranti E scoppia il caso sul blitz della polizia a Palermo Lo strano caso di Luca e Paolo Imitano Toninelli, Frecceroli, Silura Ma i comici resta quelli che il calcio Van Gogh piace al grande schermo Ma i critici di oggi lo snobbererebbero Altra tragedia sulla neve Morta bimba di otto anni Incidente sullo slettino Nello Bolzanese Andiamo sul Corriere della Sera Migranti, tensioni nel governo Di Maio, accogliamo noi donne e bambini Salvini, basta con i ricatti Malta all'Italia, attenti alle parole Sul decreto sicurezza intesa tra i due vice premier Non lo cambiamo A centropagine il mistero di Luca ed Edith Scomparsi in Burkina Faso Lui architetto di Padova Le canadese erano diretti in Togo Morire sulla neve slettino a otto anni contro un albero Era con la mamma ancora una vittima La Repubblica La nave che spacca il governo Salvini sui migranti non cedo Conte e Di Maio lo sfidano Accogliamo donne e bambini Allarme e sanità sul decreto sicurezza Razzia hacker contro i leader tedeschi Diffusi online dati e chat di mille politici Colpiti tutti tranne l'estrema destra L'architetto chiama l'Africa Sparito nel sail delle stragi Scomparso con un'amica Il messaggero Lite sui migranti Mossa Di Maio Porte aperte a donne e bambini Movimento 5 Stelle in crisi di consensi Prova a smaccarsi Gelo di Salvini Basta ricatti Non cambio idea Perde slancio il fronte dei sindaci disobbedienti Roma Troppi rifiuti La scuola non riapre L'alto là dei presidi I dirigenti degli istituti scrivono la raggi C'è il rischio epidemia Intervenga in 48 ore Neve anche al sud L'inverno che rassicura il freddo di questi giorni Allontana i timori sul riscaldamento globale Il sole 24 ore usa Occupati record Fred frena sui tassi Tutte le borse in rally Rumore sconto alla Movida Vincoli al rumore Meno severi di quelli usati finora dai giudici Cambiano i limiti per esercizi commerciali e imprese La crisi delle cop Regge solo Carpi Cantieri 27 miliardi restano in ostaggio di 400 opere bloccate In chiusura La gazzetta dello sport Gioventù dorata Si parla ovviamente di mercato In A ci sono 11 desideri da 500 milioni Godin all'Inter arriva a luglio Preso il difensore dell'atletico Madrid Allegri va sempre al maxi In Europa ha vinto più di Peppa Angelotti E Zidane Milan svolta in tribunale Soldi turchi per il mercato Maradona Ore di paura per un'emoragia Adesso è fuori pericolo Prima di salutarci Vediamo quali sono i programmi Che andranno in onda oggi Sulla nostra rete A partire dalle 11 contro la rovescia Alle 13 camminando molise 13 e 50 musa tv Alle 14 il tg Alle 16 contro la rovescia Alle 18 speciale transumanza 19 e 30 tg 21 paese mio 23 Ultimo appuntamento con l'informazione E' tutto anche per questa mattina Grazie come sempre per averci seguito Arrivederci Grazie a tutti